Al via la 34esima edizione della Atri Cup. Inizia oggi e comprende appuntamenti fino al 23 agosto, quella che è stata definita una mini-olimpiade e quest'anno dovrà fare i conti con l'emergenza Covid. Le novità sono quelle determinate dalla presenza di questo, possiamo chiamarlo maledetto virus, che ha comportato notevoli restrizioni. A noi diciamo che alla fine non ha fatto tanto male perché ci ha stimolato a fare ancora di più. Abbiamo diviso la parte sportiva, che è la tradizione da 34 anni, in due fasi. Un mese, quello fino al 23 agosto, 28 di agosto, dove si potranno disputare soltanto finte gare, perché sono vietate dalla normativa, e comunque solo di alcune discipline, quali il ciclismo, la corsa cronometrata individuale, il ping pong, il tennis, il baseball, le cheerleaders. Quindi tutti sport dove non c'è contatto e dove, più che lo sport, si tratta di fare attività fisico, ludica, sportiva. Dal 30 di agosto, quindi dal primo weekend di settembre, partiranno tutti gli tradizionali tornei della Tricup che coprono 15 discipline per normodotati e 7 per diversamente abili. Non solo sport, la Tricup intende affermarsi anche come un evento culturale e artistico. Molti gli ospiti illustri. Il cartellone è fittissimo e denso di appuntamenti molto accattivanti. Già questo fine settimana ci saranno tanti appuntamenti, sia stasera sia domani. Ci sarà Pietro Mazzocchetti con la presentazione del libro di Alberto Rasetti sull'ospedale di Atri, Atri nel Covid-19. Poi dopo domani ci sarà Paolo Stella. Poi ogni fine settimana ci saranno grossi nomi, Giovanni Allevi, compositore, Sandro Veronesi, il premio strega, poi ci sarà la blogger, influencer Serbaggia Rucarelli. Per terminare poi nelle serate del 22 e del 23 agosto con l'ex nazionale Totoschillaci che ci regalerà due notti magiche, diciamo così, a Triane. Per partecipare occorre registrarsi sul portale www.viviatri.it